Ma che cazzo ne sai tu, questo è top del mante! Ci troviamo a Cerchevalier, sul Col de Lire, nello specifico, adesso scenderemo di là, faremo una bel fuori pista qua per arrivare a prendere quella seggiovia, ma volevo mostrare da Scania la discesa che abbiamo appena fatto, brutta Scania, brutta sì sì, per inciso in totale sicurezza di fianco alla seggiovia ed è una discesa in fresca di 500 metri, infinita, ma soprattutto adesso ne abbiamo un'altra alle nostre spalle, nel senso che ce n'è altrettanta, purtroppo è andata così oggi, ci spiace, è una brutta giornata